Sono stati quasi 4.000 biglietti venduti per la mostra di Dalì che si è conclusa lo scorso 31 luglio. Un successo. Il museo, con il suo chiostro, lo spazio espositivo, sta vivendo un momento molto interessante. I vari eventi collaterali alla mostra a cui si è dato spazio nel chiostro, la disponibilità del curatore alle tante visite guidate, gli orari adattati alle varie serate hanno permesso il raggiungimento di un grande risultato. Domenica scorsa, ultimo giorno della mostra, al chiostro si è svolto lo spettacolo Le parole desuete. Per l'occasione il museo ha posticipato la chiusura dalle 22 alle 24. In tanti, sia prima che dopo lo spettacolo, hanno approfittato per fare una visita al museo. In tanti, sia prima che dopo lo spettacolo, hanno approfittato per fare una visita. In tanti, sia prima che dopo lo spettacolo, hanno approfittato per fare una visita. In tanti, sia prima che dopo lo spettacolo, hanno approfittato per fare una visita.